Le cantine di Gildone sono state riaperte e è tornato con una nuova edizione il Giro di San Martino, un percorso enogastronomico sviluppato in sette tappe di degustazione, di vino novello e piatti tipici. L'iniziativa promossa dalla Proloco di Gildone con il patrocinio del Comune ha riportato tra le strade, usi e costumi di una volta, evento tradizionale per celebrare la figura di San Martino ed esaltare l'oro rosso della terra. Allegria e divertimento per lasciarsi alle spalle tempi bui e vivere una serata in cui vale tutto. Sette anni fa il primo direttivo della Proloco di Gildone, quasi per scherzo, pensò bene di promuovere gli angoli del nostro borgo attraverso questo evento, un evento legato alla tradizione di San Martino che qui a Gildone è molto radicata. Baccalà, pizze senza lievito, formaggi, sono solo alcune delle pietanze offerte nelle cantine insieme al vino, la ricetta giusta per un'edizione da record di presenze. Non era un risultato affatto scondato, veniamo fuori da due anni di pandemia dove abbiamo visto un fermo un po' di tutte le iniziative, per cui non è stato così semplice riorganizzare un po' il tutto e riprendere un po' anche questo evento e questa iniziativa. L'atmosfera è ancora quella autentica, quella genuina di un tempo e questo ci fa molto piacere perché magari andando in giro ad Alte Sacre questa cosa non si avverte più. Viva, 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 viva!